Sono soddisfatto, ho fatto volo e ho fatto assist, ma lo meglio per me è fare per la squadra, per aiutare la squadra e perché arrivi i tre punti. Per quello sono soddisfatto anche per me, ma soprattutto per la squadra. Incredibile, incredibile. Sono contentissimo per aver fatto il gol a San Siro con tutti i tifosi. Sono molto contento perché i tifosi e il sostegno che mi dà ogni giorno è incredibile. Sono super, super grato per tutti quello che mi dà loro perché è incredibile i tifosi che noi abbiamo. Sono uguale che l'anno scorso. Adesso sono il gioco di più e sono molto contento perché il gioco di più, anche perché credo che la squadra è più forte e il sostegno, come detto, tanto della squadra come dal mister di tutti è sempre uguale. La fiducia in me e anche la fiducia nella squadra è incredibile. Per questo io sono contento. A me piace giocare a calcio e quello che faccio è giocare e divertirmi giocando. Noi dobbiamo lottare per tutti, che si può lottare. È quello che vogliamo. Noi vogliamo giocare ogni tre giorni e per quello dobbiamo vincere tutta la partita che si manca. Il mio obiettivo è giocare bene, con il Milan perché per questo è come può arrivare alla nazionale. E quello che sto facendo è giocare bene, aiutare la squadra. Dopo essere chiamato per la nazionale è un orgoglio. Giocare con lo Assurri, sapendo che io gioco qui a Italia e è molto sostegno per me qui in Italia è incredibile. Aspetto di giocare e, come detto, lo primo è fare bene e anche sono super grato per la parola di di lui Enrique e di Mancini che ha fatto a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.